Musica Buongiorno a tutti, buongiorno e ben ritrovati carissimi telespettatori oggi è giovedì 25 febbraio e questa è la rassegna stampa occhio ai giornali che apre in diretta i programmi di Fano TV qui sul canale 17 cominciamo dal santo di oggi, vediamo il santo, è un santo che è nato nel 1900 San Turibio Romo González, è stato un sacerdote, un giovane sacerdote appunto nato nel 1900 a Sant'Anna de Guadalupe da una famiglia di umili origini la mattina del 25 febbraio del 1928 viene svegliato da una banda armata guidata da un contadino del posto insomma è morto, giovanissimo il sole è sorto alle 6.52 e tramonterà alle 17.51 oggi pomeriggio peggiore il tempo, vedete pioverà, ci saranno precipitazioni anche a carattere di rovescio maggiormente insistenti sul settore centro settentrionale della regione le temperature sono in lieve diminuzione nei valori minimi stazionario invece è un lieve aumento nei valori massimi i venti sono di brezza leggera o tesa mentre per la giornata di domani, venerdì 26, avremo cielo nuvoloso in particolare nelle zone interne le precipitazioni saranno deboli, sparse nella prima parte della giornata residue invece nei settori montani nel primo pomeriggio le temperature in aumento le minime in diminuzione invece le temperature massimo e per sabato 27 di febbraio ancora deboli fenomeni sparsi nella prima parte della giornata il fine settimana sarà perturbato migliorerà soltanto nella giornata di mercoledì allora cominciamo la lettura dei giornali e andiamo sul resto del canino la pagina di Fano che si occupa del caso di meningite di una bimba che è stata ricoverata bimba di 3 anni, non era stata vaccinata un medico dell'Asur posta la notizia su Facebook scoppia la polemica tra favorevoli e contrari la bimba di 3 anni di Fossombrone ha contratto la meningite acuta batterica si tratta di una forma con un rischio di contagio quasi nullo per la quale non è prevista la profilassi ma sul fatto che appunto questo medico ha postato la notizia sui social network che poi ha scatenato appunto tutte queste polemiche interviene anche il direttore del Dipartimento di Prevenzione Massimo Agostini che dice i social network sono un pozzo di disinformazione il dirigente mette in guardia soprattutto da alcuni gruppi ideologizzati che praticamente ce l'hanno a prescindere sui vaccini e fanno opere di informazione e disinformazione soprattutto dice a proposito di questa malattia che è molto frequente nei bambini e può degenerare in un caso su tre e raccomanda questo vaccino perché dice in questo caso è anche gratis se rientra nel piano vaccinale i bimbi vengono chiamati per farla assieme alla Zavalente al terzo mese questa è una vaccinazione straconsigliata e strapraticata in tutto il mondo e questa è la notizia che troverete anche sugli altri due quotidiani chiaramente sulle pagine di Fano sul maltempo invece arriva ma il ciclone invece no scrive il quotidiano bolognese più che le piogge sono da temere le burrasche e le mareggiate da oggi fino a marzo inoltrato giorni perturbati temperature in diminuzione ma senza grossi sbalzi le previsioni annunciano una quindicina di millimetri di acqua nei prossimi giorni salvo cambiamenti di scenario serviranno ad integrare i già buoni apporti d'acqua che sono caduti in questo mese la giornata di domenica scrive ancora il Carlino in questo senso è annunciata come la più dinamica spruzzate di neve dalle nostre parti si vedranno solo ad alte quote oltre 1300-1400 metri e soprattutto durante la sera andiamo ancora sempre sul quotidiano sul resto del Carlino perché da Sant'Angelo in vado la tragedia delle due sorelline morte nell'incidente stradale dove appunto c'erano anche i genitori la mamma, il papà e un altro fratellino loro stanno bene la mamma ha avuto la notizia della morte delle sue due figlie soltanto qualche giorno fa all'inizio non le era stata detta la verità anche perché era uscita appena da un intervento ora la mamma sa invece che le sue due figlie non ci sono più e vuole partecipare ai funerali anche in ambulanza il sindaco di Sant'Angelo in vado Luzzi dopo aver visitato all'ospedale di Torrette la donna è passata al Salesi per riportare in città invece il piccolo Fabriz che è il bimbo di dieci mesi che adesso è in buone condizioni per fortuna ha la gamba sinistra ingessata tornerà a casa oggi anche il padre che è ricoverato invece nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Urbino non ha voluto mancare funerali quindi si terranno questi funerali nella concattedrale di Sant'Angelo in vado alle 3 del pomeriggio e quel giorno il sindaco ha indetto il lutto cittadino dalle 13 alle ore 18 con la nostra piattaforma online accederete al grande mercato cinese ecco l'altra notizia che campeggia addirittura su due pagine del Carlino di oggi la Camera di Commercio ha incontrato Wong Min del gruppo Xinai Wong Min è questa signora qui con a fianco un suo collaboratore e in questo articolo si parla della possibilità di investire di fare affari nel grande mercato cinese passando attraverso questa piattaforma poi c'è la storia invece di Bossini che è guarito dal cancro Bossini ormai possiamo dire è un pesarese d'adozione Paolo Bossini oro all'europeo di Madrid e argento due anni dopo a Budapest sempre nei 200 rana sta vivendo la sua seconda vita a Pesaro come allenatore di Sport Village alle piscine del Parco della Pace tre lunghi anni a Pesaro che gli sono serviti per ricominciare dopo aver scoperto e vinto nel 2010 un tumore linfatico che ha interrotto improvvisamente la sua brillante carriera apriamo adesso invece il Corriere Adriatico Triennio Rossignano ecco la legge speciale il primo di marzo arriva in Parlamento fondi, obiettivi, progetti e promozione secondo il disegno di legge Fabri nel dispositivo previsto anche un comitato d'onore il cui presidente sarà il premier Matteo Renzi ospedali, chiusura solo rinviata siamo ad Urbino Gambini dovrebbe ingoiare il rospo ma da Fossombrone riparte la protesta cittadini mobilitati per la giornata per la tutela della salute e per l'orgoglio dell'entroterra e ancora da Fano invece no alle ingiurie siamo all'interno del Consiglio Comunale Rosetta Fulvi che ne è il presidente striglia i politici e ha inviato ieri una lettera di monito per dire insomma di abbassare un pochettino i toni e di avere soprattutto rispetto per i cittadini l'iniziativa prende le mosse dall'appello del Movimento 5 Stelle contro l'attacco ad Ansuini nell'organismo di garanzia questa è la notizia che trovate sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico poi tanti vuoti da colmare invece la Confcommercio fanese sulle iniziative estive gli esercenti si tasseranno per attirare il pubblico nel centro storico di Fano occorre mantenere viva l'animazione con ulteriori eventi e ancora andiamo sulla pagina di Fano e Valle del Cesano da Cartoceto Matteo Andreoni coordinatore regionale delle Città dell'Olio l'assessore di Cartoceto dice per me è un onore e un onere ma soprattutto un riconoscimento per l'unica DOP olearia delle Marche prosegue intanto la battaglia del consigliere Rapa contro le agevolazioni alla Repubblica Tunisina Casa della Salute invece da Mondolfo taglio del nastro con i VIP il sindaco Cavallo annuncia per sabato la presenza di Ceriscioli, di Bernardo, Fabri e Marchetti l'assessore Flavio Martini spiega che strumenti e che servizi verranno ospitati nei tre piani dell'ex Bartolini da Marotta consulta permanente del turismo i 5 Stelle ne chiedono la Costituzione mentre da Urciano la Fornace sarà abbattuta resisterà solo la Ciminiera il Comune ha dato infatti l'ok al progetto della Coari dunque l'altra pagina, quella di Senigallia invece quella che riguarda la piazza sulla quale si sta discutendo ormai da diversi giorni stemmi papali, critiche anche dal Partito Democratico perché? Perché su piazza Garibaldi Pier Federici firma la petizione pensate, con tutti i problemi che abbiamo noi in questo mondo per togliere i simboli dal progetto fondi, nel capitolo c'è un milione in più ma viene bocciato l'emendamento correttivo di Sartini andiamo sul messaggero, sulla palla di pomodoro il simbolo del lungomare pesarese il designer ci mette la firma il progettista dei lampioni sospesi di Viale della Repubblica si occuperà del restyling il cantiere del nuovo arredo di piazzale della Libertà dovrà chiudere prima dell'estate a centropagina anche qui la notizia di una bambina colpita da meningite mentre la cronaca lei perdona il marito padrone ma il giudice invece no e lo condanna 8 anni all'uomo la sentenza coinvolge anche il cognato violento mentre Elena Paolino sarà sindaco di Fano per un giorno la donna oggi affiancherà il primo cittadino Massimo Seri in tutti i suoi impegni amministrativi e questa sera sarà nostra ospite qui negli studi di Occhio alla Notizia nello studio del telegiornale per partecipare appunto al programma in diretta con il sindaco sulla pagina di Fano Rosetta Fulvi striglia il Consiglio Comunale politica e bonton troppi litigi il Presidente li richiama all'ordine nota ufficiale dopo l'ultima seduta rovente della Commissione sulla Rincicotti e Orciani Poi Bellocchi scoppia per il traffico ogni giorno almeno 5.000 veicoli coordinatore del PD Antonioni è preoccupato mentre 4 milioni per le nuove asfaltature aperte le buste delle offerte i lavori riguardano 60 km di strade Occhio ai giornali finisce qui noi ci rivediamo questa sera alle 20.30 con il telegiornale poi come vi ho già annunciato primo cittadino attraverso il quale potrete rivolgere le vostre domande al sindaco di Fano Massimo Seri utilizzando i canali soliti Whatsapp oppure la posta elettronica oppure potete chiamare al nostro numero in diretta al nostro numero fisso 0721 86 14 33 grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie per averci seguito